Siamo con il dottor Gerardo Gasparini, specialista in chirurgia plastica. L'utenza in questo settore è sempre più numerosa. Come intervenire in completa sicurezza? Considerando appunto l'aumento di pazienti che si rivolgono a questa chirurgia in fasce di età diverse e con problematiche cliniche diverse, oggi grande attenzione va fatta alla selezione del paziente, alla scelta della giusta indicazione al procedimento e soprattutto poi svolgere questo percorso terapeutico che generalmente comprende una fase chirurgica in una struttura ovviamente adeguata dove possiamo avere un supporto e di personale addestrato e di tecnologia che ci consentono appunto di operare senza correre alcun rischio per il paziente. Quindi il ruolo educativo di un professionista è sempre più importante? Assolutamente, questo non solo sulla scelta del luogo, ma anche sulla scelta del percorso chirurgico, che io penso vada sempre condiviso con il paziente, a partire appunto dalle indicazioni, dalla scelta del procedimento e anche dalla tipologia di approccio, in quanto al nostro paziente dobbiamo sempre sottolineare la sua unicità in modo che qualsiasi cambiamento noi andiamo ad apportare non vada ad alterare questa sua prerogativa e quindi a volte anche limitando certe aspettative non sempre raggiungibili o veritiere. In che direzione sta andando questo settore? Sicuramente per dare risultati che si coniughino sempre di più con le aspettative e le esigenze che oggi i pazienti hanno. Quindi una chirurgia con gesti chirurgici meno invasivi, grande attenzione al contenimento delle cicatrici e quindi questo vuol dire anche un tempo di ripresa lavorativa e della vita relazionale inferiore rispetto ad interventi più estesi che si facevano in passato, prediligendo a volte anche quindi procedimenti combinati associando metodiche chirurgiche e procedimenti più propriamente di tipo medico estetico. Grazie mille per averci dedicato il suo tempo. Grazie a tutti.